In che modo anche Gesco sostiene la campagna? Sosteniamo la campagna non solo perché è un omaggio alla memoria di un uomo, Mario Paciola, che si è impegnato e ha speso la propria vita per realizzare attività da cooperante, però credo che sia anche una testimonianza che sollecita la ricerca di verità. Non è possibile che così sbrigativamente sia stata archiviata l'indagine sulla morte misteriosa, assai misteriosa, di Mario. Non è possibile che le Nazioni Unite non diano risposte e la Farnesina non sollecite la Columbia per conoscere alla verità quello che è accaduto in quel tragico giorno. Grazie a tutti!